Dopo le ripetute falle nella sicurezza della Casa Bianca, sono arrivate le dimissioni di Julia Pearson, la direttrice del Secret Service. Non sono bastate le scuse durante la lunga audizione di martedì. A complicare la sua posizione, un altro episodio che mostra la leggerezza dei servizi di sicurezza. Secondo quanto descritto dal Washington Post, appena qualche settimana fa sarebbe stato consentito a un uomo armato e con precedenti penali di salire in ascensore con il presidente Obama, in completa violazione dei protocolli per la sicurezza. A far nascere le prime polemiche sugli standard di protezione dell'uomo più potente al mondo, l'intrusione il 19 settembre di un uomo fortunatamente non armato nel giardino e in una delle sale della Casa Bianca. Obama ha già annunciato di essere favorevole a un cambio di leadership nei servizi di sicurezza.